Ciao, benvenuti o bentornate sul mio canale oggi vi faccio un video un po' particolare ovvero vi faccio vedere come mi occupo dei miei piedini quindi facciamo una pedicure insieme visto che appunto io non sono solita andare dall'estetista per fare mani e piedi ovvero le uniche volte in cui io mi reco dall'estetista per fare mani e pedicure è in estate, quando devo andare in vacanza cosa almeno so che ce le ho belle curate eccetera eccetera altrimenti io sia mani che piedi me li faccio a casa quindi mi faccio la mani e la pedicure a casa e per cui in questo video vi faccio vedere come faccio io la pedicure ovvero come mi prendo cura dei miei piedini allora vado come primo step ad aprire l'acqua calda così appunto da riuscire ad ammorbidire bene i miei piedini le parti più dure ecco del mio piedino qui vado a testare con il dito la temperatura quando trovo la giusta temperatura a questo punto riempio il bidet con l'acqua qua vedete anche il vapore per cui bella caldina soprattutto in questo periodo che fuori fa freddissimo e una volta che sono soddisfatta vado a mettere il tea tree oil io lo utilizzo perché è un disinfettante naturale quindi metto qualche goccia e vado ad immergere i miei piedini e praticamente li tengo in ammollo una decina di minuti vi giuro ragazze che è troppo piacevole questa sensazione di piedini in ammollo una volta appunto tenuti in ammollo cosa vado a fare vado a prendere la mia pietra pomice questa è quella che utilizzo io vado a bagnarla e inizio a praticamente sfregarla su tutte le parti dure del mio piede quindi talloni qua vedete appunto che mi fossilizzo sui talloni insisto sui piedi cioè sui piedi, sulle dita dei piedi ogni tanto appunto ribagno la pietra pomice perché così almeno tolgo le cellule morte che sto togliendo dai piedini poi vado a risciacquare i miei piedi quindi faccio scorrere l'acqua e vado a semplicemente a risciacquare i piedini da tutte le cellule morte che magari sono rimaste durante appunto lo sfregamento con la pietra pomice qui insisto e come vedete appunto vado a sciacquarli ben benino una volta finito questa operazione vado ad asciugarli con un semplicissimo asciugamano niente di che successivamente cosa faccio? quindi vado a fare una maschera questa è della Seven Even ed è la Soft & Socks Mask quindi sono praticamente dei calzini che voi indossate tenete in posa 15-20 minuti e vi rendono il piede super 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 morbido come vedete io ho un piedone lunghissimo io ho un 40-41 di piede e come vedete io nel calzino ci entro perfettamente per cui se avete il piedino più piccolo non vi preoccupate ha anche la sua linguetta per chiuderlo bene massaggio e poi io vado a mettere questi calzettoni in spugna per tenere ancora più al caldo la maschera e farla agire quindi una volta passati 20 minuti massaggio il prodotto sui miei piedini lo faccio anche sull'altro quindi tolgo la maschera e massaggio l'eccesso sui piedini dopodiché vado ad applicare il semi permanente qui così non vi ho fatto vedere gli step questo è un rosso bellissimo di passione unghie ed eccoci qui ragazze questo è il video sulla cura dei miei piedi come mi prendo cura dei miei piedini fatemi sapere voi che cosa fate che cosa non fate se andate tutte le volte dall'estetista per cui non so ogni due settimane andate a mettervi il semi permanente piuttosto che fate sia la pedicure che il semi permanente fatemi un po' sapere le vostre abitudini per la cura dei vostri piedini e anche delle vostre manine perché no se il video vi è piaciuto mettetemi un pollicione in su mettetemi l'emoji del piedino e iscrivetevi al mio canale mi raccomando così non vi perdete tutti i miei video e noi ci vediamo al prossimo video ciao